Adoro Te, fonte della vita, i miei calzari leverò su questo santo suono, alla presenza Il tuo amico spero Questo anno sociale, poi il mese di agosto è un mese di studio, per me di riposo, un momento anche di riflessione Per immergermi ancora di più nella parola E così potervi dare la bellezza delle scritture Che dentro questo rivestimento umano ha questa ricchezza dello Spirito Santo Poi ci ritroveremo agli inizi di settembre, con la prima domenica di settembre Riprenderemo il nostro cammino Che so quanto vi sia di aiuto e quanto attraverso queste poche parole Arrivi la ricchezza della parola Oggi siamo al termine del capitolo 13 E potrei dire che le ultime due parabole, prima della settima, la quinta e la sesta E cioè la perla e il tesoro Sono due parabole che ci insegnano che è la forza del regno che ci spinge È il tesoro del regno che ci spinge alla libertà Sono famose queste due parabole Chi di noi non le ha mai ascoltate Il tesoro trovato per caso da un contadino nel terreno Va, vende tutto quello che ha, compra il campo pur di avere quel tesoro O come quel commerciante che è alla ricerca, la sua ricerca, l'emporio Alla ricerca delle perle preziose ne trova una meravigliosa Fa tutto, vende tutto quello che ha per prenderla Siamo davanti a questi verbi Ve li vorrei far notare perché sono veramente importanti Perché tutti e due i personaggi trovano, vendono tutto quello che hanno, comprano Attenzione perché le parabole sono davvero splendide anche come narrazione Sembra, sembra, dico, che il contadino e il commerciante siano i protagonisti Ma in realtà non lo sono E chi sono i protagonisti? Beh, il tesoro e la perla Perché è il tesoro e poi la perla che spingono Apodici il testo greco Spinti dalla gioia questi due uomini Afferrano quei beni Tutto quello che fanno è la conseguenza Le azioni sono una conseguenza di questa scoperta Sembra ovvio Ma chi non darebbe per un tesoro meraviglioso tutto quello che ha? Un tesoro incomparabile, una perla incomparabile Vedete, Gesù ci presenta Con la bellezza e la semplicità di queste immagini La novità Il regno è un valore immenso Non c'è nulla che valga nel confronto Non c'è nessun bene Niente Beato gli uomini e le donne Non c'è nessuno che percepiscono La bellezza del regno di Dio Ecco perché, vedete Vendono tutto quello che possiedono Senza rimpianto Senza sacrificio Hanno avuto una fortuna in gente Chi di noi non lo farebbe? Eppure Sembra che non riesca in tutti quanti Notate che la parola chiave Di questi testi è Per la sua gioia È la gioia La gioia è la scoperta Che spinge tutte le azioni successive Che imprime Una certa accelerazione Notate Nel primo caso Il contadino Trova per caso il tesoro Una scoperta accidentale Dall'altra parte invece Il commerciante Ha un'intensa attività E quando scopre una perla preziosissima La più bella che abbia mai visto Vuole comprarla Vendendo tutto Notate Nonostante la scoperta Possa essere fortuita Oppure ricercata In realtà È il bene trovato Che spinge Che spinge A fare una scelta Cioè La scelta Porta A delle rinunce Pur di prendere Quel tesoro E quella perla Preziosa C'è un guadagno spirituale Se andate a guardare In certi testi Di Giobbe 28 Proverbi Al capitolo 3 Al capitolo 8 Si parla Si parla proprio Di un guadagno spirituale Paragonandolo a quello Della perla Ma che vuole dire Gesù Perché Questa parola è anche per noi oggi Vuole dire che quello che è accaduto a queste due persone Al contadino e al commerciante Capita Capita anche a noi Ogni giorno Capita anche a noi Il regno dei cieli Ci viene incontro L'abbiamo visto Domenica scorsa Quel granello di senape Quel livito nascosto nella pasta E in un certo senso Il regno dei cieli Fa capolino Nella nostra vita E qual è la scelta Più saggia da fare? È quella di Di vendere Quanto si possiede Di lasciare ogni cosa Di fare una scelta Qual è la scelta Accogliere Questa ricchezza Formidabile Ecco perché Tanti uomini e donne Chiamati lungo il lago Per l'estate della Palestina Pensate a uomini e donne Che hanno lasciato tutto Abbandonato Perché? Perché è una scelta Che hanno fatto Senza rimpianti Chi ha rimpianti Dice Matteo Assomiglia a quel giovane ricco Che Se ne torna triste Con la coda tra le gambe Ha troppi beni Per scegliere Il Cristo E scompare nel nulla Potremmo scomparire nel nulla Anche noi Come quel giovane ricco Quell'uomo che era già saturo di beni Pensava di avere tutto Invece Non possedeva nulla Nulla di veramente importante E va via triste La tristezza Contrapposta invece Alla gioia del contadino E del gioielliere Che vogliono dire Queste due parabole Vedete Ci spiegano Come si fa A rispondere all'amore di Dio Non con la rinuncia Attenzione Che il primo passo Non è la rinuncia Ma la scoperta Di un bene inconmensurabile L'amore nasce da una scelta Una scelta che comporta una rinuncia Attenzione È il valore del regno Che ci spinge a lasciare tutto È chiaro che ogni scelta comporta una rinuncia Ma mai al contrario Chi rinuncia Non sempre sceglie Il cristiano La cristiana Sceglie Dunque anche rinuncia La misura Dell'essere discepolo di Gesù È proprio l'appartenenza a lui Quindi chi segue Gesù Non dice mai Ho lasciato Ho abbandonato Ma dice Ho trovato Come nel quarto Vangelo Abbiamo trovato Colui di cui hanno detto i profeti Andrea dice a Pietro Ho trovato di colui che hanno scritto i profeti Ho trovato Eureka Che bello quel verbo eurisco Ho trovato Perché una vera sequela Nasce dalla gioia del Vangelo Quindi sotto i simboli del tesore Della perla In realtà Si c'è una realtà Che è quella della sapienza Vi ricordate Testo magnifico Della donna virtuosa Proverbio al capitolo 31 Una donna forte Chi potrà trovarla Chi potrà trovarla Lo stesso verbo che usa qui Matteo Ben superiore alle perle È il suo valore Si sveglia al mattino presto Prepara tutto per mangiare E poi fila al telaio È figura Quella donna della sapienza La sapienza personificata Questa voler dire Guardate Ciò che è saggio E il Vangelo ce lo dice È saper scegliere Saper scegliere il tesoro del Vangelo La perla preziosa Della parola Perché finché siamo qui Ecco le prime sei parabole A due a due Che portano all'ultima Finalmente alla parabola Della rete Una parabola interessante Perché Ora si è il tempo Del giudizio Quella pesca Che indica il momento Della separazione Non era il momento Quando abbiamo visto Domenica scorsa Il grano e la zizzania Non è quello il tempo Non è oggi il tempo Ma siamo Si può giungere Noi giungeremo Al tempo Del giudizio Finché abbiamo tempo È un tempo di grazia Un kairos Un tempo opportuno Per cambiare mentalità Per scegliere Perché potremmo scoprire Come dice Agostino Di pensarci dentro il Vangelo E di scoprire In un modo amaro In realtà Di non esserci mai entrato Oh Signore Liberaci Da questa angustia Di scoprirci che Alla fine Non siamo dentro Il tuo regno Signore Abbi pietà di noi E qui dalla Chiesa Oggi Che cosa compete? La missione La Chiesa predica La misericordia Che Gesù Ci offre Non i giudizi Attenzione Questo è lasciato Nelle mani di Dio Il giudizio ci sarà Ma alla fine Quando sarà chiaro Alla fine O al compimento A meglio ancora dire Le scelte Che abbiamo operato Beati noi Se avremmo fatto Scelte sagge Poveri noi Se avremmo fatto O preso Decisioni sbagliate Ecco perché Vedete Tra la parabola Del grano E della tizzana E quella della rete C'è un grosso divario Perché La parabola Del grano E della tizzana Che abbiamo visto Domenica scorsa Pone il problema Della presenza Scandalosa Del male nel mondo Gesù ci ha insegnato Come convincere Come dobbiamo convivere Con questa presenza Così scandalosa Scomoda Conservare il bene E però Questa settima Parabola Ci ricorda una cosa Quello che Paolo Scrive anche Nella lettera ai Romani Versetto 25 Infatti Fratelli Io non voglio Che ignoriate Questo mistero Affinché non siate Presuntuosi Un indolimento Si è prodotto In una parte Di Israele Finché non sia entrata La totalità Degli stranieri È un testo Molto teologico Che vuole dire Paolo Che c'è stata Una parte di Israele Che si è indurita Che non ha accolto Gesù E questo ha permesso Come ci ricorda Anche Matteo L'entrata Nella chiesa Di tanti pagani Noi Quindi vedete La parabola Della zizzania E del grano Una parabola Di separazione In realtà Ci dice Non è questo il tempo Ma Quella parabola Della rete Dice ai giusti Allora Splenderanno Come il sole Nel regno Del padre loro Quindi quest'ultima Parabola Non solo ci dice Che ci sarà il giudizio Noi andiamo incontro A quel giudizio Ma dobbiamo Soprattutto Ricordarci Che quel giudizio Sarà una gioia Per gli eletti Per i giusti Perché potranno Finalmente Splendere come sole Nel regno Del padre loro Quindi Attenzione Come mai Dio Oggi Sopporta il male Non affretta il giudizio Perché Aspetta di darci Tempo di misericordia Finché c'è tempo Di misericordia È possibile Cambiare mentalità Con l'aiuto Dello spirito Chiediamo al Signore La metanoia Il cambiamento Della nostra mente Ma l'ultima parabola Ricorda ai giusti Che ci sarà una ricompensa Ognuno raccoglierà Ciò che ha seminato Ma Dio In questo frattempo Attraverso Gesù Il Vangelo La missione della Chiesa Ci offre la possibilità Della conversione Per arrivare A quel pleroma Delle genti Di cui diceva Paolo Nella lettera romana Ecco perché Alla fine del capitolo 13 Il grande Matteo Si presenta Come lo scriba Intelligente E saggio Come sono belle Queste parole Dell'autoritratto Dell'evangelista Che è il patrono Della mia diocesi Di Salerno Campagna Ocerno Noi conserviamo Nella cripta Di San Matteo Il suo braccio Questo grande evangelista Che ci raccomanda Sorelle e fratelli carissimi Di scoprire Nella scrittura Il tesoro La perla Che sono nascosti Quel tesoro Quella perla magnifica È Cristo La sapienza di Dio È lui che viene A cercarci A trovarci Cristo Gesù Ci chiede di accoglierlo Ecco perché Io vi raccomando In questi mesi Di Anche di vacanza Di momento Un po' più sereno E anche se siete Sotto un ombrellone O a casa In un bosco Dovunque siate Meditate La parola di Dio Contenuta In questo guscio umano Delle parole umane Dentro c'è la parola di Dio Andate a scoprire Quella parola Guardate Non c'è conversione Senza la lezione divina Un buon cristiano Una buona cristiana Medita il Vangelo Ogni giorno Non bastano i rosari Le nostre messe Se non partiamo Dalla conoscenza Della parola Contenuta nelle scritture E a noi sacerdoti Dico Abbiate a cuore La predicazione Anche una breve omilia Ma spiegatela La parola di Dio Fatela apprezzare Portatela fuori Come quando si spezza un pezzo di pane fragrante Se ne sente l'odore Odorifera verba Diceva San Francesco Queste parole che Odorano Che meraviglia Per cui Davvero Lasciamoci istruire Dal Signore Anche noi possiamo diventare Come Matteo I veri scribi Quelli che hanno accesso Al tesoro del regno Perché hanno scelto Di seguire Gesù E quindi di lasciare Tutta la logica Del non perdono Dell'ovio Del primato Del dominio Della carriera Non servono a nulla Beati quegli uomini E quelle donne Che sono entrato Nel profondo Delle realtà Io amo molto Le finestre Una finestra È come uno sguardo Sul mondo Che Signore Anche se è una finestrella piccola Ce la apra Perché noi possiamo Guardare Nel profondo Le realtà Che Lui Mette nella storia Nella natura Negli uomini E vivere sereni E gioiosi Perché Lui è sempre con noi Buona estate Buon riposo Ma soprattutto Buon Alexio Divina Possiate davvero apprezzare La bellezza Della parola Contenuta nell'Escrittore È una meraviglia Questa parola Che è la lettera D'amore Che Dio Ogni giorno Ci offre Non passi Un solo giorno Senza avere Tra le mani Nella mente Nel cuore Il video Con la collaborazione Di Don Fernando Che è il direttore Della televisione Possa essere trasmesso A ognuno di voi Grazie A tutti quelli Che danno la possibilità Anche a queste onde Attraverso le quali La parola meravigliosa Di Dio Ci raggiunge Entra dentro di noi Come questo seme Che porta Tutta la sua ricchezza Che ci umanizza E ci rende davvero Quel progetto Che Dio Da sempre A su ognuno di noi Shalom Buona Pasqua Questa settimana Sei qui davanti a me Tu mio Signore Sempre davanti Nella Tua grazia Trovo la mia gioia Io lo do Ringrazio e credo per te Il mondo Ritorna a vivere Ringrazio e credo per te